Ecco, ho svuotato un po' la memoria. Adesso ho recuperato un po' di spazio. Questa è fortuna dopo il suo rimessaggio. Avete visto l'elica? La bella elica di fortuna con due mani di driver anti-fooling dei cecchi Gustavo. Ecco il lavoro della decorazione. Ecco, tutta perfetta. Martedì si va in acqua. Alla prossima. Ciao. Grazie.